Eccoci qua, siamo in onda. Cari amici di Arte Network, diciamo siamo anche alle porte delle feste che seppur con tutte queste restrizioni mi auguro possiate trascorrere con i vostri cari in famiglia e in serenità, questo è quello che auguro a tutti quanti. Quindi questa è l'ultima trasmissione prima della vigilia e poi del Natale, ma poi ci rivedremo comunque mercoledì prossimo, anche se sarò in onda pure la sera di Natale dalle 21 a mezzanotte con i vetri. Poi ve lo ricordo alla fine che se volete trascorrere tre ore con la grande arte e i grandi designer del Novecento per quanto riguarda il vetro di Murano, che tra l'altro, se non erro, è in concorso per diventare patrimonio dell'UNESCO. Quindi c'è tutto un movimento anche per quanto riguarda l'arte del vetro, poi ne parleremo magari dopo domani, perché no, e trascorrere qualche ora assieme. Bene. Oggi intanto volevo salutare tutti, saluto Willy che ci siamo sentiti prima, saluto Michele che mi ha fatto molto piacere di vedere nei nostri schermi qualche giorno fa con la sua trasmissione, saluto anche Anna Maria che ci siamo conosciute, ma dobbiamo approfondire, parlare, ci siamo solo incrociate, diciamo così, in azienda qua nel nostro ambiente, ma sicuramente poi a breve parleremo e ci conosceremo. E saluto tutti voi che come sempre ormai siete fedelissime mercoledì in queste due ore, in questo ritaglio di tempo da condividere con i grandi artisti, i grandi maestri del Novecento e non solo. Oggi serata coloratissima, lo vedete già alle mie spalle, una serata che prevede curiosità, prevede elasticità, voglia di conoscere, voglia di entrare in contatto con un mondo che non è sicuramente usuale, tantomeno quindi è di conseguenza scontato. Mi fa molto piacere e sono stata la prima, in primis io, felicissima di aver approfondito una cultura meravigliosa, che è quella della tradizione artistica africana, un mondo veramente che secondo me, almeno così un attimo informandosi anche sugli ultimi avvenimenti d'asta, poi parleremo di tutto quanto come sempre e faremo vedere tutte le opere perché sono moltissime in esposizione, un mondo che non si deve dare per scontato, anzi bisogna continuare ad alimentare il grande successo che sta avendo a livello internazionale. Non stiamo più parlando di una tradizione che può essere definita la tradizione tribale che aveva influenzato l'Europa e comunque il bacino europeo all'inizio del Novecento, a Cavallo Trotto Novecento, là si trattava di tutt'altro impianto. Andremo ad analizzare anche il confronto perché è importante capire per quale motivo non si può più paragonare il successo e l'influenza della tradizione artistica africana di quel periodo con quello o della nostra contemporaneità. Sono due riflessi diversi, sono due influenze, due semi e due interessi completamente discordanti, quasi due poli opposti. Poi motiveremo il tutto. L'artista, la grandissima protagonista di questa sera è Esther Malangu, che è stata anche ospite anni fa qui da Arte Network. Abbiamo anche un piccolo estratto in cui Willy ha avuto l'onore e l'occasione di intervistarla. una persona meravigliosa che sprigiona energia, vitalità e impatto proprio come le sue opere. Quindi c'è davvero una connessione viscerale tra lei, la sua tradizione e il modo in cui la esprime. Io sono rimasta completamente a 360 gradi affascinata. Una meraviglia. Ecco, già il nostro Marcello dalla regia, vedo nel monitor di ritorno, vi sta mostrando, mostrando, vi sta mandando in onda qualche fotografia che già vi preannuncia delle collaborazioni speciali. Vedete anche lei immersa in quello che è il suo villaggio, nella sua tradizione. È un mondo che dobbiamo partire subito, non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo veramente approfondire. Voi dovete confermare, e per farlo, un'agevolazione per voi è sempre il PDF che Stefano ha pronto al centralino. Ecco, lo vedete anche per metà sui nostri schermi, il nostro direttore di trasmissione, non solo, un po' di tutto. Quindi contattatelo già, i numeri di sovrimpressione sono i soliti, li vedete entrambi, se è il fisso, ma su WhatsApp lui vi manda sempre la lista, e vi manda anche il PDF con le opere. Ok? Non pensate che, visto il tratto così identitario e distintivo, le opere si somiglino l'una con l'altra. Sono completamente diverse. Un conto è l'impatto visivo e, diciamo, il frame che entra nel nostro cuore e nei nostri sensi a primo impatto. un conto è poi esplorare il mondo e la tradizione. Parola chiave per comprendere non solo Estermalango e tutta la sua meravigliosa produzione e la sua arte, ma tradizione è la parola chiave perché non si può parlare, per quanto riguarda, diciamo, la provenienza africana, di arte africana in senso universale. Bisogna proprio parlare di tradizione artistica, che è una cosa apparentemente simile. In realtà, un termine distingue completamente quella che viene espressa come tradizione ricchissima, ma a volte è distinta da villaggio a villaggio, da tribù a tribù, quindi non si può mai generalizzare e universalizzare quella che è l'arte, la tradizione artistica africana. Spettacolo. Andiamo subito sulle nostre opere, ma io consiglio appunto, Stefano già vi sta rispondendo, vedo che già manda i pdf, quindi ve lo dico prima, perché Arte Network, anni fa, si parla di più di dieci anni fa, ha iniziato questo percorso intanto di volontà nel credere in questa forma espressiva, meravigliosa, che sta contaminando il mondo e ci credo. Lo capirete subito. I vostri sensi saranno rapiti immediatamente da non solo la sua produzione, ma anche di tantissimi altri artisti che nello scenario contemporaneo stanno veramente arrivando a essere anche battuti alle aste delle cifre incredibili. Anche di questo parleremo. Anche di questo parleremo. Il vantaggio per voi è il nostro approccio ad essere malangue, alla volontà di credere in questa scia, in questa tradizione che proviene da un continente affascinante a dir poco, che è ricco di storia, ricco di radici, da cui si può solo imparare e conoscere, veramente, senza orizzonti, veramente, proprio, già solo semplicemente affacciandosi a lei si capisce quanto si possa e si debba imparare da questa tipologia e tradizione artistica. Il contributo è quello di prima. Certo, assolutamente, dovete farvi un'idea. Allora, prima mi fate l'idea, poi mi fate sapere, e ci fate sapere al centralino, già subito, su quale opera, magari dal PDF, volete concentrarvi, noi andiamo subito, prima le vostre richieste scandiamo così la trasmissione benvenga, vi lasciamo e vi mandiamo in onda un estratto tratto dall'intervista che vi ho citato poco fa con Willy. Quindi, se gentilmente Marcello ci fa vedere, ci manda in onda una piccola parentesi di intervista, i nostri telespettatori possono già entrare in contatto con l'artista magnifica. Vediamo. Noi, ciao! Mi chiamo Esther Masangu, da Saut Africa. Quando è bele, I'm di bele. I'm middle-est. I'm painting the wall, the design, the ballet design, if somebody want a house suitors or in the ballet, you can see with your eyes this in the ballet house, painting like this. I like my culture, I teach children to paint. In Starmacus, I teach children to paint. Grazie a tutti. Buongiorno Esther, grazie di essere venuta. Buongiorno. Oh, bravissima, in italiano. Tu hai cominciato a dipingere quando eri una bambina. Sono 10 anni, sì, ho cominciato a dipingere quando sono 10 anni. La mia madre mi insegna. Ti ha insegnato tua madre? La mia madre e la mia madre. Nella tradizione Ndebele sono solo le donne che dipingono, è vero? Non sono le donne che dipingono, sono solo le donne che dipingono. Ma quando tua nonna, tua madre o tu stessa insegnate a dipingere ai bambini, o meglio alle bambine, da cosa iniziate? Dal colore, dalle linee o comunque dal disegno? Nella tradizione Ndebele è particolarmente importante usare le linee in una certa maniera. Quindi il disegno ha un significato preciso. È questo il metodo tradizionale? No, io sono crescita. La mia madre e la mia madre stavano dipingendo. Oh, ho visto. Sì, come si diceva. Allora, la tradizione. Tu facevi i disegni quando eri piccola, tua madre dipingeva, riempiva gli spazi di colore. Ma è ancora così? La tradizione dura ancora? Usi lo stesso metodo con le bambine a cui tu questa volta insegni? Esere, cosa mi dici del tuo abito così particolare e di questi ornamenti? Senti le perline splendide che a noi fascinano tanto, lo sappiamo, questo è parte del tuo lavoro, è parte integrante della tradizione De Bele, tu le usi anche nei lavori che noi abbiamo qui, le vediamo spesso. Sì, è la mia cultura, come puoi guardare, come puoi guardare il lavoro di pelle, le mie blanque e gli altri blanque, come puoi guardare, è solo le stesse cose, anche la pittura, è la stessa. Sì, è la stessa. Certamente la più famosa artista De Bele, forse la più conosciuta tra le artiste contemporanee africane, ma tu che provieni da questa antica tradizione De Bele, che cosa provi riguardo il giudizio di noi occidentali? Sì, mi sento bene, sì, mi sento bene, ma la prima volta, la mia trip è stata in Francia. Sì, le persone di Francia venivano venivano qui, in Sud-Africa, prendono le foto, dopo le foto, mi sento bene, le foto non guardano il lavoro, il miglior lavoro, chi è il mio lavoro, e le dicono, questo lavoro è il numero uno, devi arrivare a Francia. Se non sbaglio, tu poi veniste in Europa a dipingere automobili. Sì, stavo dipingendo un'auto in Johannesburg, un BMW, un'auto da Germania. Ecco qua, è terminato lo spezzone, giusto un piccolo inizio per quanto è lecito, perché è stata un'occasione ed un evento, anzi un gran fenomeno, poter aver potuto ospitare qui anni fa Esther Malangu e Willy l'ha intervistata, è stata quindi, insomma, come minimo avremmo dovuto darvi qualche spunto, così un incipit per comprendere e soprattutto per sentire, perché almeno questo è quello che ho percepito io. Io ho sentito veramente un gran carisma, una forte energia, vitalità ed è lo spirito a cui effettivamente anche oggi e soprattutto oggi avremo bisogno di ritornare, di ritornare questa primordialità, il potere della primordialità, importantissimo. Io inizierei, avete già visto poi le collaborazioni, ma poi le andremo a vedere nel dettaglio, inizierei a far vedere le opere, inizierei a darvi la possibilità di confermare e di comprendere, poi io sono solo una cornice attorno alla potenza di queste creazioni e cercherò semplicemente di farvi capire perché è giusto collezionare un'opera di Esther Malangu. Quindi partiamo e partiamo subito come si deve e perché alle mie spalle vedete quest'opera imponente, a parte questo meraviglioso piccolo cartello, se così lo possiamo definire, che in realtà quando lei è stata ospitata qui da Arte Network è stata accolta con la riproduzione, ok, la riproduzione vera e propria di una casa, un luogo fondamentale, una casa decorata proprio con le pareti decorate dalla sua arte, sono state utilizzate e questa era una di quelle applicate nella facciata, ok, lei è arrivata qua stupita, sbalordita dal fatto che fosse stata accolta e, ecco, vedete lo spezzone in onda, esattamente come se fosse a casa sua, perché? Perché è da casa sua, dalla sua tradizione che nasce questo tipo di pittura, questo tipo di approccio artistico che in realtà lega sempre qualcosa di trascendentale, ok, alla forma, un contenuto molto 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 sensibile, molto profondo, espresso con una forma estremamente identitaria, perché non lo si può negare, cioè parliamo di, vedete, ecco qua la facciata dove di fronte sono state proprio applicate le sue opere per dare il giusto tributo, il giusto merito e accoglierla nel migliore dei modi, perché è quello che merita un artista come Esther Malango, qui a Marconne, la nostra sede di Arte Network e cominciamo proprio da lei, andiamo nel dettaglio. Perché, dicevo, la sua forma nasce e attinge in realtà da una tradizione molto più antica? Lei appartiene alla Tribune De Belle, come avete già letto, come avete già ascoltato nella piccola intervista di Willy a inizio trasmissione. Una tribù che praticamente, semplicemente, raggruppa i gruppi etnici che sono diffusi, se dobbiamo dare un'indicazione geografica, nello Zimbabwe occidentale, ok, perché è il Sudafrica, è il Sudafrica il ritaglio geografico promotore di questa tradizione artistica nel mondo, che ha avuto un grandissimo successo in particolare dalla seconda metà del Novecento, prima era un altro riflesso quello che giungeva nel mondo occidentale, in Europa e poi in America. E queste linee nette, guardiamo subito la sua forma, analizziamo la prima impatto, linee perfette, senza alcuna sbavatura, un rigore geometrico che anzi io definirei proprio algebrico, cioè questo è un rigore algebrico nel definire e nello strutturare, ok, uno spazio, una grande campitura in un supporto e imprimere così, già con questa suddivisione, la propria identità. Ma da cosa nasce? Innanzitutto è una tradizione che viene tramandata dalle donne, è dalla madre e dalla nonna che lei attinge, assorbe questa passione che si esprime come arte narrativa, l'arte di origine africana, è di stampo e di impronta narrativa, racconta sempre una storia, racconta sempre un'origine, una tradizione che poteva essere il matrimonio, poteva essere un funerale, poteva essere il passaggio tra l'età dell'adolescenza e la maturità per un uomo, per il figlio maschio. Cioè ci sono dei riti, ok, che si tramutano e si trasformano in miti nella pittura africana e con questo schematismo, con questo rigore ed impatto, lei riprende ed imprime esattamente quello che è stato insegnato dalla madre e dalla nonna. Non i pennelli, ma le gacci di penne di gallina, seriamente li avete visti anche nel video, quindi un rispetto della tradizione coerente, totale, al 360 gradi, per tracciare lo schema e poi riempire con il colore che è sempre vivace, sempre vivo, sempre solare, che attinge dall'energia della tribù, del popolo e si esprime, ok, con un impatto che è invadente, che ingombra, perché si fa immediatamente sentire. Questa è una delle, ve la mostro subito perché, perché le tele della facciata, diciamo, della sua casa, ecco, sono le opere più rare nella nostra esposizione, sono quelle che scarseggiano per quanto riguarda la dimensione, quindi è giusto che io ve le mostri immediatamente, che possiate subito confermare le più importanti per dimensione, ma quello che ci tengo a dire è che Arte Network è stata veramente tra i primi a credere con lungimiranza in questa artista straordinaria che ora non ha certamente bisogno del mio supporto per essere, diciamo, divulgata, perché lei è introdotta nel contesto internazionale ed è famosissima, importantissima, anzi, è proprio la colonna portante della tradizione de Bele e di tutta la sua tribù, quindi non ha bisogno sicuramente di tante frivolezze, tutt'altro, proprio una persona di contenuto e di espressione energica. Allora, perché è importante acquistarle da Arte Network? Perché essendo stata la prima a crederci, questi sono proprio i dati, questo è il dato di fatto. Ha fatto un grande investimento anni fa, circa dieci anni fa, abbondanti, su Esther Malangu, e la cosa incredibile è che le opere che vi vengono proposte oggi, perché Arte Network crede più nella voglia di integrare una forma d'arte, un'espressione artistica a livello internazionale, che speculare sul fatto che questi artisti stiano veramente raggiungendo delle cifre esorbitanti, e si parla di Sotheby, se si parla di Bonhams, come case d'aste, perché sono quelle che hanno un dipartimento dedicato all'arte africana, a tutte le espressioni dell'arte africana, che sia la scultura, che sia la pittura, ecco, l'arte figurativa, quindi attenzione, perché sono i colossi a livello internazionale a parlare e da cui noi andiamo ad attingere le testimonianze di cifre, ok? E quindi ci vuole cosa? Ci vuole un attimo a creare un paragone, a capire quanto può valere un'opera e quanto potrà valere tra ben poco, perché le crescite, le percentuali, i numeri, ecco, parlano chiaro, e c'è un'esponenziale, ok? Dopo andiamo a vedere proprio i numeri esatti, capiamo assieme, non stiamo parlando per dare aria alla bocca, no? E la possibilità che avete voi è quella di acquistarle al prezzo che veniva proposto anni fa, quando, ok, il valore era differente. Oggi che il valore è aumentato, nel momento in cui la filosofia, ne parlavo prima con Stefano, di Art Network, non è quella di speculare, ma è proprio quella di divulgare, di voler far entrare nelle vostre collezioni, trattandovi come clienti, come fedeli clienti chiaramente, è quello che abbiamo pensato che vi meritiate, e quindi approfittatene, ve lo dico, di proporvi dei prezzi a cui ve li avremmo proposti anni fa. Questo è una sorta di regalo di Natale, abbiamo voluto apposta creare in queste ultime due trasmissioni delle condizioni speciali, ecco. Io non dico altro perché vi invito per scoprirlo al centralino, Stefano vi aspetta, è già che manda i pdf. E per farvi, diciamo, un attimo comprendere il concetto della tradizione, andiamo sull'opera, l'otto numero uno, andiamo un attimo là, Max, fai vedere questa tradizione, questi riti. Guardate che meraviglia, questa oltretutto è l'unica, l'unica, che esprime questi rituali della tradizione, della tribuno, che non viene mai dimenticata, anzi viene celebrata. Io, questo io trovo sia veramente un, il frutto e il seme del fascino che traspare dall'arte, dalla tradizione artistica africana, cioè il non abbandonare mai le radici. E quindi qua vedete, no, delle scene di culto, vedete lo stesso identico ornamento che indossava la stessa artista, Esther Malango, qui, un copricampo fantastico. Poi avete visto anche la piccola parentesi in cui sono andati ad accoglierla all'aeroporto e chiaramente, cioè, la gente era estasiata, le persone la osservavano perché era ed è un'opera d'arte vivente, cioè ha tutti gli effetti. Non si esprime solo nel lavoro, la tradizione, nel lavoro artistico, si esprime proprio a livello totale. Vedete gli strumenti, vedete le case, perché, come dicevo prima, è dalle case che nasce il tutto, perché erano le donne che dovevano essere in grado di dipingere, ok, motivo per cui lei vive ancora nel villaggio dove è cresciuta, ok, nel villaggio della tribù dove è cresciuta, per tramandare, per lasciare un'eredità alle donne, alle bambine, alle ragazze, alle future artiste, ok, che provengono dal Sudafrica, la sua arte, una tradizione fantastica in cui le madri insegnavano a dipingere internamente ed esternamente le pareti di una casa e se noi andiamo a vedere qualche retaglio fotografico, qualche frame dei villaggi della tribù di Debele, ci accorgeremo di questo scenario a cielo aperto, incredibile, lei stessa, quando ha raccontato del suo primo viaggio che è stato a Parigi, ok, in Europa, racconta che è stata conosciuta da questi turisti, da queste persone che fotografavano, ok, all'epoca queste case, che più che case, ripeto, erano veramente dei piccoli villaggi museo a cielo aperto e io dentro di me mi sono interrogata e ho pensato, immaginiamo se fosse accaduto oggi con il potere, ok, della diffusione nel digitale, cosa sarebbe accaduto di un luogo come quello, perché oggi purtroppo c'è chi è nativo digitale e capisce subito questi meccanismi, sarebbe diventato un culto immediato e torniamo a vedere, torniamo a vedere subito anche la 1, perché la 1 è quella che tutti devono volere, è quella che si distingue, la vedete voi direttamente in tutta l'esposizione, è quella che si distingue, quindi se dovete puntare su quella che potete avere solo voi, firmata, autenticata, è questa, ve lo dico subito, ve lo dico subito perché l'occasione non si basa rispetto solo ad un accorgimento che facciamo sui nostri prezzi, ma su quelli internazionali, cioè l'accorgimento che Stefano vi propone oggi al centralino non lo dovete confrontare solo con le nostre vecchie proposte, ma lo dovete confrontare con uno scenario internazionale che è quello che parla, che è quello che conta. Spettacolo! Lista subito al centralino, dovete chiedere, immediatamente. La numero 4 non è più disponibile, è già confermata dalla lista, quindi lo dico pubblicamente. Molto al di sotto, infatti poi ne parleremo assolutamente. vi faccio questo piccolo intervento, perché è giusto che lo sappiate a questo punto, è giusto che possiate concretizzare questa, chiamatele a convenienza, chiamatele occasione, a me piace chiamarla occasione più che convenienza, perché le proposte di oggi saranno all'incirca, ok? All'incirca, a volte anche più, del 50%, su quella che è l'imposizione internazionale del valore dell'artista. Per questo vi dicevo, non dovete solo rapportarvi in un paragone tra le vecchie proposte di Arte Network e quelle odierne, ma tutt'altro, dovete confrontarlo, perché è allora lì che si misura, no? Il margine di differenza e di convenienza e dell'occasione, a livello internazionale, tra le gallerie che lo trattano, tra le case d'asta, e dopo andiamo a vedere proprio le cifre. La 4, quella lì, giusto? Andiamo a vederla da vicino per l'amico Luigi, certo, subito. Andiamo subito, Max, a vedere la 4. No, è quella, è perché abbiamo qua un attimo di, scusate, confusione col, la 5, ne avete esposto? Allora è la 5, esattamente, 60 per 90. 2009, esatto, eccola qua, 60 per 90, così abbiamo un attimo espresso anche le misure, questa è la prima conferma per il nostro amico Luigi, e vedete perché farvi mandare il pdf, col pdf avete l'ambizione e la possibilità e il potere di scegliere sul ventaglio praticamente completo all'inizio. E già a giudicarvi quello che poi man mano nelle nostre due ore di diretta andremo a spiegare, su cui andremo ad adentrarci. Ma la cosa incredibile che secondo me proprio trapella da queste opere è l'energia, che è un'energia in realtà ancora nuova per il pubblico, nonostante sia affermatissimo ormai tutto l'agglomerato dei nuovi artisti contemporanei del contesto africano, in realtà è ancora un po' come se fosse un mondo nuovo, un'energia nuova che ha conquistato il mondo grazie a cosa? All'autenticità, all'espressione di una tradizione e alle radici, ok? Che alla fine, vedete, hanno sempre quel fascino di realtà e di purezza che si percepisce pure in un'arte tracciata da questa algebrica geometria semplice da questi colori complementari, primari che si esprimono proprio in quello che è il culto. Questo è il culto, questo non è solo una realizzazione su un semplice supporto, questo è rappresentare un culto ancora sconosciuto o conosciuto per la minoranza degli appassionati, dei collezionisti del mondo, ecco, e far capire quanto queste tradizioni in realtà occupino già i vertici e di tantissime case d'asta internazionali. L'anno che, e spostiamoci anche di qua, facciamo vedere un po' il nostro set, facciamo vedere anche gli oggetti, perché non parleremo solo di tele, parleremo anche di oggetti, ne vedete uno esposto accanto a me, c'è anche la casa che, se non erro, a questo punto era il 4, giusto? Sì, era il 4, c'è anche quest'altra sezione di oggetti sempre, ecco, sempre espressione di una quotidianità, di una tradizione quotidiana della cultura in Debele e direi di concentrarci proprio su questi due, andiamo un attimo su questa coppia che è meravigliosa, poi facciamo vedere anche tutto il resto, è anche il teatrino, la casetta, perché a livello anche di piccola scultura, è l'unica che c'è tra le proposte di oggi, 1989. Allora, anno importantissimo, per cosa? Innanzitutto è l'anno che ha consacrato Esther Malango come artista internazionale. Cosa significa? Significa più cose, significa che l'ingresso nella scena artistica africana contemporanea, cioè significa il momento in cui l'arte di origine africana entra come espressione contemporanea nel sistema globale dell'arte, ok, avviene con un'esposizione, dove? A Parigi, al Santro Pompidou, intitolata Le Masiciens de la Terre, curata da Jean-Hubert Martin comunque, questi sono piccoli dettagli ma alla fine fondamentali perché questo è l'anno che funge un po' da cerniera. Cerniera tra cosa? Innanzitutto lo sappiamo tutti, la caduta del muro di Berlino, mi viene immediatamente questo collegamento, questo riferimento storico di portata mondiale, perché? Perché in realtà quell'evento non ha fatto altro che abbattere, ok, una barriera, immaginiamocela metaforica, immaginiamocela concreta, perché questo è stato, tra un mondo considerato occidente e un mondo considerato non occidente. e un po' la matrice di questo pensiero, di questo concetto è lo stesso che con la mostra nel 1989 al Sant'Pompidou di Parigi accade. È lo stesso avvenimento e non è tanto metaforico come concetto, è molto reale, è proprio veritiero. E nel terreno storico accade questo, che l'arte, la tradizione artistica africana entra, si confronta nello scenario globale dell'arte contemporanea non più come un confronto, ma con la volontà di esprimere e di dimostrare che il terreno artistico è eterogeneo, la vera ricchezza sta nell'eterogenità di un'espressione artistica totale, universale, che abbraccia e comprende senza un confronto, ma accogliendo un mondo considerato già di impianto occidentale e un mondo che fino a poco prima era considerato reduce dal colonialismo. Per questo dico non si può parlare di un ingresso in scena come l'influenza all'inizio del Novecento. Perché? Perché l'influenza che c'è stata a cavallo tra l'Ottocento, quando nelle maggiori città europee, già negli ultimi decenni dell'Ottocento e poi nei primi decenni del Novecento, ospitavano delle mostre dedicate all'arte di origine africana, il movente era completamente diverso. Il movente di quel periodo era di matrice politica, cioè si cercava di convincere una popolazione e il mondo che la colonizzazione verso questi stati, verso queste tribù e questi paesi considerati indigeni, lontani, non ancora integrati, fosse necessaria e che questa educazione al mondo occidentale dovesse per forza avvenire. Quindi era una sorta di bacino per accogliere il consenso, ecco consensuale, se vogliamo dirla tutta. Mentre quello che accade nel 1989 è completamente diverso, cioè l'ingresso dell'arte, della tradizione artistica africana sarà lei a scardinare completamente anche il modo di vedere tanti artisti occidentali e il modo di pensare di tanti artisti occidentali. Perché questi nomi sicuramente a noi risulteranno meno famosi di tanti altri artisti che in realtà, esponenti dell'arte povera, poi andiamo a citarne alcuni, hanno dimostrato quanto bisogna fruire, sia necessario fruire dell'esigenza dell'energia primordiale legata alla Terra, l'arte povera ad esempio, per entrare in contatto con l'universo e con l'umanità. Quindi non stiamo parlando di una corrente di esclusi, stiamo parlando di una corrente che diventeranno i pionieri di un nuovo modo di pensare all'arte e proprio la chiave di volta all'anno che funge da cerniera è il 1989. Da non dimenticare, quella è proprio stata il passaggio. Fammi vedere anche l'ultimo dei, per favore Max, sì, degli oggetti perché sono interessantissimi e non sono molti, quindi bisogna subito dare la possibilità di confermare anche questi. Guardate che meraviglia. L'ambizione del 1989 cos'era? Era di raccontare, far dialogare le discipline artistiche di due universi che erano culturalmente lontani, l'occidentale e il non occidentale. Per questo vi dico che metaforicamente l'evento straordinario della caduta del muro di Berlino un po' indirizza il modo in cui dobbiamo approcciarci a questa tipologia e a questo filone artistico, no? E cosa significava? Arrivare a posizionare finalmente, oserei dire, su un piano di parità, parità, gli artisti di tutto il mondo. Anzi, oserei dire che forse noi occidentali molto spesso dovremmo scendere scendere da un piedistallo di un'impalcatura fragile che regge le nostre convinzioni e capire quanto in realtà la pulizia, l'essenzialità, la sobrietà della primordialità sia necessaria all'esistenza. Il risultato è stata questa mostra spettacolare, le Masichene de la Terre, innovativa e soprattutto d'avanguardia. Quell'avanguardia che all'inizio del Novecento lo stesso impronta, perché all'inizio del Novecento sono dei grandissimi protagonisti di avanguardie. Abbiamo Matisse, Picasso, Modigliani, cioè sia nel terreno europeo che nazionale, sono tante le figure che hanno nutrito un fascino irrefrenabile per quella che è stata l'arte di origine tribale. Picasso, lo sappiamo tutti, è anche grandissimo collezionista di maschere tribali, di questo connubio, di questa aderenza tra quello che è spirituale e quello che è terreno. Cioè è una dimostrazione imprescindibile della vita, dell'esistenza. Ciao Marcello. Spettacolare, hai letteralmente rubato il mio girello dalla trasmissione, dallo spazio dispositivo dei vetri, vediamo cosa hai in mente perché qua... e quindi si pone questa novità, questa esposizione di cui abbiamo parlato di Sandro Pompidou come un perfetto ritratto d'avanguardia. Fammi un'altra carrellata, mostriamo più opere perché ci sono già delle richieste su alcune... La due? Appunto, ve l'ho mostrata subito, non a caso. È una delle... più importanti. Adesso andiamo a vedere. Sì, fai una carrellata, un 360 nel nostro... Complimenti, perché avete capito, avete compreso, ok? Quello che già in uno scenario internazionale sta accadendo. Questa, quella confermata. Stefano, chi devo ringraziare? Paolo da Roveretto. Paolo da Roveretto. Ah, quindi non è la prima opera che entra nella collezione del nostro amico Paolo, mi fa piacere. Continua, vedete, ma lo stesso vale per tutti. Cioè, quando si punta su un artista di spessore internazionale, soprattutto nella produzione contemporanea, perché gli artisti contemporanei spaziano anche tra varie forme espressive. Tanti artisti che abbiamo trattato nelle scorse trasmissioni del mercoledì, cosa avevano in comune? Cosa li accomunava? Il fatto che il loro percorso di evoluzione e di rivoluzione artistica era scandito, frammentato, ma io lo intendo, con una connotazione positiva. Guardiamo semplicemente un guarnieri, un pace. Cioè, noi vediamo il loro percorso, la loro linea temporale frammentata. Ok? Qualcuno potrebbe pensare una confusione nell'approccio identitario, tutt'altro. L'espressione della sperimentazione di diverse forme espressive. Questa è una grandezza. E la possibilità, come avete visto, l'oggettistica, gli ornamenti, l'arte espressiva figurativa su tela, gli oggetti con le perline, che trovate nella lista in pdf, se non erro, perché non li abbiamo qua in esposizione, ma sono presenti nella lista in pdf e dovete vederli. Vedete quanto la proposta sia varia? Ecco qua il teatrino, proprio sotto di me, è il quattro, perché prima c'eravamo lievemente confusi. Qui è proprio come addentrarsi in un frammento, in uno scenario del villaggio della Tribune De Bele. Guardate la meraviglia. E soprattutto il materiale, perché, se avete notato, ma lo ripetiamo, nel video iniziale, cos'è, cos'ha raccontato Esther, ha raccontato che inizialmente questo, queste trame geometriche, queste linee nere su questo sfondo bianco che si stagliano sulle pareti, eccolo qua il villaggio, erano realizzate con lo sterco, poi è passata alla pietra, cioè con quello che la terra e l'evoluzione naturale del luogo in cui viveva o friva, e poi in un futuro è passata all'acrilico. Ma questa matericità, non tanto vista come sperimentazione che accade nel nostro bacino nazionale nella seconda metà del Novecento, ma come ritorno alla terra, come espressione di ritorno alla terra, noi la ritroveremo non solo in Esther Malangu, perché? Se noi pensiamo ad altri artisti, vi ho detto no, ci saranno sicuramente durante la diretta di oggi degli altri artisti che per forza dovremmo andare... La 17? Anche la 17 in conferma, lo diciamo per chi giustamente si è già fatto mandare il pdf, così sa che non è più disponibile, lo diciamo pubblicamente. Dicevo, sono tanti gli artisti che possiamo accostare, non paragonare, io non paragono mai, chi mi segue sa che io non faccio mai paragoni, ma cerco piuttosto di integrare, di motivare, di attingere l'uno dall'altro e cercare di magari focalizzare dei punti in comune, perché no, ben venga. E questa matericità di cui parlavamo, no? Andiamo a vedere, ecco, e fai vedere mentre io spiego questo semplicissimo concetto ma fondamentale con la seconda delle tre tele che restano grandi, uguali, di dimensione alla due che è già stata confermata. Facciamola vedere, perché qua oggi si tratta di veramente una battaglia, e ve lo assicuro, fatevi vedere, fatevi mandare i prezzi per capire la possibilità di occasione di oggi. Volevo parlarvi di questo art designer, perché lo possiamo definire assolutamente con questo termine, che ormai è un termine comunissimo nel nostro gergo, perché è una delle mansioni lavorative di oggi, attuali, contemporanee, chi si occupa quindi dell'espressione pubblicitaria, chi lavora nella comunicazione, chi si esprime, chi tratta l'immagine sotto diverse forme, e la esprime tramite un medium, no? In questo caso parleremo di un fotografo. perché ed è Ousmane Dago, cioè un fotografo e art designer del Senegal, l'origine, la diremo poi di tanti altri artisti di cui parleremo oggi, perché certo, la protagonista è lei, ma è giusto creare un contesto internazionale, è giusto darle un supporto ed inserirla accanto agli artisti dello stesso calibro, no? che nel 99, diciamo, inizia Ousmane Dago a esprimersi, a farsi conoscere con la prima personale. Giungerà nel 2000 in Italia, nel 2001 alla Biennale di Venezia e Valencia, e si impone come l'artista della tradizione africana per eccellenza legato alla fotografia. Cosa fa? Perché è famoso? Perché è conosciuto? Alcuni di voi magari avranno sfogliato la monografia curata da Achille Bonito Oliva nel 2002 e da Martina Corgnati. Importante monografia che ha, diciamo, espresso, documentato, argomentato quella che è stata un'esposizione importantissima titolata Femter perché chiaramente la protagonista, la donna, come dice, come suggerisce il titolo di questo fenomeno, di questo evento espositivo. La donna che viene rappresentata e poi vorrei chiedere dopo se quando Marcello raggiunge nuovamente la regina, riesce a trovare un'opera di Ousmane Dago importantissima, conosciutissima per far capire solo l'impatto visivo di chi stiamo parlando che è una figura a livello internazionale importante e nel frattempo, Max, esodiamo a livello visivo. Ecco, fammi vedere l'altra grande. Fammi vedere l'altra grande. Eccola. sono praticamente una serie di fotografie che in realtà nascono come opere d'arte con un cenno di performance, nel senso che l'espressione artistica di Ousmane Dago nasce un po' dalla teatralità, cioè lui dispone queste meravigliose donne espressione della femminilità, della maternità, della primordialità, sempre una costante presente, ecco, nell'arte di origine africana. e cosa fa? Le orna con del bianco che ricava dal gesso, poi le macchia con del colore e crea una sorta di doppio strato di seconda pelle, ecco qua, guardate, vedete che è una vera e propria performance che inizia con l'allestimento della sceneggiatura come a teatro, guardate, il gesto, la gestualità, quindi la forza della materia, donne di cui poi, nel momento in cui vengono immortalate, nelle sue meravigliose fotografie, non si svela mai il volto ed è questo il mistero, il fascino, anche la sensualità erotica mi permetto di dire, perché fantastica, una chiave di lettura meravigliosa delle sue opere, ecco qua, proprio mentre le ricopre con questa materia, in questo senso volevo farvi capire si parla di ritorno alla terra, ma realmente, nel vero senso della parola, e lui è uno tra i principali interpreti dell'avanguardia africana contemporanea, la pelle diventa tutto in effetti, lo vedete, superficie, vengono sporcate con la terra, l'argilla, il gesso, il fango, colori, con i capelli, no, copre il volto o con qualche ornamento, guardate che spettacolo, che spettacolo, e sono, veramente, emanano un effetto spiccato di dramatizzazione ed erotismo, eccole qua, voi e Marcello vi stiamo mostrando questo contributo bellissimo, e questo ciclo oltretutto realizzato a metà degli anni novanta, tutto questo impasto materico si secca sulla pelle di queste donne, di queste modelle meravigliose, che in realtà incarnano dei simulacri geologici, quasi marmorei, quasi statuari, spettacolo, riesce a immortalarle con il suo medium d'eccellenza, che come vi ho detto è la fotografia, e questo è solo una delle espressioni che vuole identificare la donna come la madre terra, attraverso la materia il corpo di queste donne viene riplasmato a tutti gli effetti e ha scritto in una sorta di tempo originario del mondo. Ah, infatti Max, volevo proprio se ci siamo, volevo proprio far vedere anche le misure più contenute. Facciamole vedere tutte, mostriamo tutto, esodiamo le richieste perché ci sono tantissime richieste anche sul PDF continuate, tra l'altro il 2009 è l'anno in cui Esther è stata qui e ha realizzato, pensate, una performance live in cui che carina, ha pure scritto Art Network con la sua, con il suo stile espressivo, ce l'abbiamo ancora qui conservato gelosamente, perché è quello l'anno in cui l'abbiamo accolta, è quello l'anno in cui è venuta a raccontarci, a dimostrare dal vivo questa tradizione di tornare in una sorta di tempo originario del mondo. È questo il fascino di spogliarsi da quella che forse era diventata dopo il primo periodo del Novecento degli avanguardi, dell'inizio del Novecento come secolo scandito proprio da questo avanguardismo, poi viene abbastanza esasperato anche con la sperimentazione a ridosso della seconda guerra mondiale, l'espressione materiche, la ricerca di tante forme per trovare un'identità che era stata frammentata, che era persa. ecco, ma la soluzione forse era proprio questa, questo è il messaggio che nel 1989 arriva al mondo, cioè un ritorno ad un tempo originario, sempre con un linguaggio che noterete in tutti gli artisti che citeremo questa sera, unisce la tecnica al fenomeno della natura. È come unire un qualcosa di artificiale al sentimento che possiamo definire il sentimento primordiale della vita, cioè questo connubio tra artificioso e realtà, verità profonda di un'origine, che sprigiona da un'origine, che è fenomenale, è questa l'energia che era ancora sconosciuta di cui parlavamo prima, oppure più che sconosciuta, con cui non si era ancora familiarizzato appieno, fantastico, facciamo vedere anche l'altra di queste misure, perché sono tante le richieste, io trovo fantastica anche quella, dopo andiamo a vedere anche quella con la quella che abbiamo appena mostrato la 6, poco fa, torniamo a vederla un secondo Max, non volermi del male, eccola qui, la 6, la 7, la 7, ok, io sposto, grazie mille, e volevo proprio, perché me la sono salvata per voi, arrivo subito con le cifre proprio ufficiali, ecco qua, allora, vediamo subito, eccoli qua, seriamente, quel, quel prezzo, seriamente Stefano, incredibile, arriviamo subito con qualche cifra allora, esattamente, quello che volevo mostrarvi in questo esatto momento l'ho trovato, allora, valutiamo proprio assieme le testimonianze, poi sono tutte testimonianze pubbliche che tutti voi potete trovare, ti guardi alle spalle, che voi potete trovare, fai bene Max, guardati sempre alle spalle, che voi potete trovare nel, su Google, in internet, dappertutto, che il prezzo di aggiudicazione di un'opera, di Esther Malango, di queste dimensioni, partendo da una stima di, con un margine tra i 4100 e i 6100, è stata aggiudicata a 8805 e voi dovete considerare assolutamente il più 24% dei diritti d'asta, quindi si sfora, si va al di là dei 10.000. Stefano, controllo subito perché, anzi, dimmelo te perché dopo recupero la lista, per favore, perché è questo che deve farvi rebrividire, cioè, paragonare, è la 7 se non sbaglio, questa che è andata in asta è 80x120, cioè, noi presentiamo questa misura, andiamo a vederla, che è la 8 nel vostro PDF che vi fate spedire, quindi più grande di quella che ho appena mostrato, lo vedete adesso a confronto, le dimensioni, a 4.200 euro. La 7 è confermata, quindi la stacchiamo e mi venite a dire che il margine non vi basta? per comprendere, per comprendere in anticipo che acquistarlo oggi a 4.000 contro l'aggiudicazione che già parla chiaro, che sfora, come vi ho detto, con la testimonianza i 10.000, ok? Parliamo giustamente dello scenario internazionale, perché l'arte e la tradizione africana si è inserita in quel contesto. quando il baricentro del sistema economico si è spostato, si è traslato dall'Europa, dove Parigi fungeva a porta bandiera come città catalizzatrice dei più grandi eventi e artisti sulla dimensione della dimensione internazionale, poi si è spostato tutto, in concomitanza al substrato, al sistema economico del mondo nel sistema di impronta capitalistica e americana, ok? E quindi noi dobbiamo rapportarci in quel bacino, quello che esprime a livello internazionale ciò che accade nel mondo delle aste. Facciamo rivedere anche una, eccola lì, quella dietro di te volevo, quella dietro di te, che vedete che si differenzia lievemente per il decoro della cornice, perché poi la cosa bella, diciamocelo per favore, perché a certi prezzi la cosa bella cos'è? E' comprare per impatto, e' comprare per emozione, e' comprare per trasporto, è la prima legge del decalogo se dovessimo stilarlo, delle motivazioni che un collezionista deve mettere in pratica per scegliere un'opera, cioè il contatto e l'approccio emotivo. Guardate lo spettacolo di questa che ha la cornice, che belle, queste forme geometriche, proprio la cornice con il decoro differente dalle altre. Io ve la faccio vedere, perché avete il privilegio di poter scegliere questi prezzi per primo impatto. Oltretutto, questa è nel listino, e' meglio se vado a recuperarlo, perché voglio darvi anche qualche prezzo, questa è nel listino, la 11 se non erro, 65 per 95 3200 euro. Come le altre due che sono già andate in conferma. Non ve le sto mostrando a caso, c'è un margine di distacco elevatissimo. Vi ricordo anche perché abbiamo parlato di 1989 come evento fondamentale, no? L'esposizione Le Magician de la Terre al centro Jacques Pompidou e in occasione di quell'esposizione questo dialogo che si esprime di voler far, di rendere aderente il mondo occidente a quello non occidentale, non occidentale, si esprime e collima la perfezione. Ma c'è un'altra un altro fenomeno da considerare ed è la collezione di Jean Pégozy perché è lui che ha fondato la più grande raccolta privata, attenzione, tante opere di Esther Malangu provengono dalla sua collezione che a Sedia a Ginevra e ha una delle più grandi raccolte contemporanee d'arte africana che prevede più di diecimila opere, ok? Più di diecimila opere ed è dalla sua collezione privata che vengono estratte e vengono proposte da Sotheby's, da Bonans, le straordinarie opere di Esther Malangu, ok? E questi sono già il primo accadimento fondamentale l'abbiamo evidenziato nel 1989, ormai ce l'abbiamo lì, questa enorme collezione che veramente raccoglie intanto più di diecimila opere di circa ottanta artisti tra cui lei abbraccia la fotografia, la scultura, il disegno, la pittura, quella che è proprio la la trama che sorregge questa espressione della tradizione primordiale. E l'altro grandissimo accadimento oltretutto è che in Italia, alla Biennale di Venezia, che come sempre è un evento fondamentale che orienta i collezionisti, gli acquirenti dei diversi substrati, dei diversi tipologi di vendita, istituzioni espositive, internazionali, no? E anche lì emerge uno dei più importanti artisti di origine ganese in questo caso. E poi si parla delle prime aste nel mondo, dal 99, a partire dal 99, si arriva ad oggi, si arrivano le collaborazioni con le multinazionali, con una trasversalità diciamo universale. Facciamo vedere come abbiamo mostrato prima questo fenomeno, no? L'arte primordiale che viene captata, viene compresa, viene apprezzata e viene anche sfruttata in senso positivo per essere espressa e per essere divulgata, eccola qua, vedete, nel 1991 per la prima volta viene Esther Malangu chiamata per decorare interamente questa BMW. Poi nel 2016 viene richiamata per decorare sia l'interno che l'esterno sempre di una BMW. Qua vedete l'edizione della 500 e guardatela mentre lavora, mentre è all'opera. Appena uscita questa foto fantastica e non solo anche per la Rolls Royce, cioè è un'artista che è stata contattata a livello, guardate che poesia, che donna, che purezza oltretutto, il sorriso di questa trama della sua origine che arriva in un mondo occidentale che ancora, mi permetto di dire, deve apprezzare appieno quella che è ormai arrivata ai vertici delle ricerche per le istituzioni espositive, delle aggiudicazioni d'asta e nelle collezioni private dei più grandi collezionisti internazionali. Oggi, cioè oggi, nel passato più prossimo il triangolo che detiene a livello geografico è che in un certo senso possiamo affermare gestisce l'andamento della vendita di Esther Malangu è Londra che è proprio il cuore di questo segmento di mercato ne detiene il 75% poi e poi vabbè c'è Sotheby's e Bonans che si contendono proprio la piazza come si può dire poi c'è Parigi che detiene il 17% in New York con l'8%. Quindi vedete che il trampolino di lancio già da cui parte la conquista di questi nuovi artisti parte e comincia si esprime da un contesto geografico che è quello che detiene ok le redini di un percorso evolutivo di una tendenza avanguardista dove i più grandi collezionisti facciamo vedere questa è quella grande che abbiamo fatto vedere quella che ha inserito Stefano in edita andiamo a vederla lì per favore grazie attenzione all'espositore che perché sono anche state richieste potete tranquillamente fare riferimento a Stefano per la dimensione perché effettivamente sono tre le fasce cioè quella più grande in assoluto che se non erro e vado a rivedere nella lista io abbandono eccola qui cioè la dimensione in assoluto più grande che è quella del 120x176 che sono i pannelli diciamo frontali della casa che è stata riprodotta in occasione del viaggio che Esther Malangu ha effettuato per arrivare qui ad Arti Network ed è stata accolta proprio con la riproduzione della sua casa no? e quelle erano le facciate quella è la misura delle più grandi poi abbiamo le 60x90 e le 90x120 queste in linea di massimo sono un po' le tre misure su cui potete orientare la vostra scelta di oggi ma vi dicevano quando parliamo di Esther Malangu come per altri artisti di origine africana ad esempio vi cito Senicamara senegalese del 45 quindi dieci anni dopo Esther Malangu qua anche qua troviamo la magia dell'oggettistica come in Esther Malangu della scultura di un periodo oltretutto in cui è un aneddoto che mi ha veramente fatto comprendere perché l'energia e la potenza si sprigiona con questa volontà dalle loro opere negli anni 60 realizza le prime terre cotte Senicamara e per vendere queste sue opere che i guerriglieri distruggevano perché andava contro il culto e la tradizione di svelare i segreti della sua tribù le portava al mercato nascondendoli in mezzo alla verdura per riuscire a diffondere inizialmente le sue prime realizzazioni poi nell'89 anche Senicamara è esposta con Esther Malangu all'esposizione Magician de la Terre dove le viene interamente dedicata una stanza con le sue sculture quindi a cavallo tra gli anni 60 e 80 quando lei inizia queste realizzazioni in terracotta viene esposta in tantissime mostre in Senegal e poi si esprime a livello universale nel mondo per mostrare quanto grande sia il mito e quanto trasversale sia il mito della maternità della mater matuta dell'aurora con tutte queste teste vediamo se Marcello riesce a trovarmi qualche grafica da mandare in onda di Senicamara per favore vediamo se dalla regia riusciamo a mostrare questa leggenda vivente che proprio vediamo se troviamo vediamo adesso Marcello sicuramente ecco qua vedete tutte queste teste di numerosissimi figli che germinano proprio sul corpo statuario della madre della maternità della figura universale che viene espressa e ricordata al mondo come genitrice eccola qua cioè stiamo parlando signori di opere che appartengono alle più grandi collezioni mondiali artisti di cui dovete approfittare dell'occasione di oggi ad Arte Network perché il confronto sulle stime di base e sulle aggiudicazioni d'asta è immediato per rendervi conto del perché già durante questa trasmissione sono innumerevoli le conferme che stanno avvenendo un'occasione che stanno la parte di la parte Perché tutto quello che questa sera nella nostra esposizione vi potrà apparentemente, come ho già pronunciato, sembrare il riflesso di un'impronta simile di creazione, in realtà non è questo quello che, non è l'aspetto diciamo formale o tecnico che deve imprimersi per far sì che la vostra scelta sia orientata e motivata verso quest'artista. Tutt'altro è proprio il messaggio etico-morale, oserei dire, che proprio si è iniettato nel mondo a partire dal 1989 come filosofia anche sociologica, nel senso che è frutto e risultato di una metafora esistenziale, di un compenetrarsi di due tradizioni e realtà che se prima non entravano a contatto alimentandosi perché vigeva un'esclusione, ora si incontrano e si nutrono a vicenda e anche su quella, se non erro Stefano mi ha accennato di andare a rivedere che è la prima, che è la prima che è quella che, 2005 questa, ecco, che vai dentro alla tradizione, ai riti che si trasformano in miti come abbiamo sottolineato e proviene da questa tribù dove ha scelto di continuare a vivere, dove paradossalmente, sembrerà strano perché vedete, magari il pregiudizio occidentale ci fa pensare che siano piuttosto le tradizioni di derivazione, no? della nostra civiltà a far sì che le donne potessero svolgere prima alcune mansioni rispetto all'uomo, mentre è proprio dalla tradizione di matrice africana che emerge questa, dall'inizio, dalle prime rappresentazioni, questa tendenza a voler esaltare la donna come simbolo di fertilità, come genitrice e l'uomo rappresentato sin dalle prime espressioni come espressioni di forza e virilità, in questo caso la tradizione del dipingere, dell'esprimersi artisticamente era invece considerata una mansione per le donne, le mansioni per gli uomini, come spiegava Esther nell'intervista che è andata in onda a inizio trasmissione, erano altre. E poi, altro incredibile legame che non possiamo evitare di esprimere. Cioè, anche poi l'arte dei graffiti, anche poi l'ambiente che si sviluppa e che prende piede negli anni Ottanta, no? Negli anni d'oro dell'arte della street art, dei graffiti in America, in quello che è il contesto che abbiamo anche parlato, che abbiamo citato parlando ad esempio di Rick Prohl, di quell'ambiente alimentato da controforme artistiche che si compenetrano tra di loro, no? E che hanno comunque la tendenza a voler esprimere il substrato di una società. In quel caso, ci sono delle testimonianze, dei racconti anche di Kei Tering, uno dei più importanti muralisti e graffittisti poi americani, che dice di essersi ispirata, di ispirato tantissimo all'arte di origine africana e tribale. E ci terrei a far vedere, visto che quello è andato in conferma, quello è andato in conferma, anche gli altri due della misura più piccola, andiamo a vedere quello grande. Ah, ok, devi fare una panoramica 360 dall'altro lato, benissimo, meglio, così i nostri amici possono vedere tutto il nostro set, fincino alla testa, a vedermi il monitor di ritorno. Andiamo a vedere questo, della stessa misura del 2 che è andato in conferma, adesso andiamo a rivedere nel dettaglio anche il prezzo. Grazie. 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 era che ha trainato quel tipo di espressione artistica a livello internazionale, gli ha fatto compiere questo viaggio importante dove poi ha piantato la sua influenza e non si è più scardinata. E se noi pensiamo, vediamo se Marcello mi può seguire e mostrare anche un contributo di Giorgio Lilanga, che è stato un pittore e anche scultore, famosissimo a livello internazionale, voglio darvi riferimento visivo per comprendere il suo impatto, le sue opere, le sue trame, perché anche su questo livello, nell'espressione di Giorgio Lilanga, proprio a lui si riferiva Kei Tering quando affermava che nelle sue realizzazioni, eccoli qua, nei suoi comunque murales, si ispirava a, chiaramente in chiave contemporanea e con uno sviluppo in una società occidentale, a quello che nello stesso modo poteva essere ricalcato sull'espressione di Giorgio Lilanga. Quelle, vediamo se le può rimettere in, perché così voglio un attimo argomentare se le può rimettere in visione Marcello, famosissime, sono diventate, hanno acquisito fama a livello internazionale in quelli che, dicendovi prima, che il bacino economico del mondo si era spostato nell'orizzonte oltreoceano dell'America. E quindi i paesi emergenti hanno, e qua devo dargli adito con lungimiranza rispetto a noi, la 8, confermata anche la 8, quindi facciamola vedere per ringraziare e confermiamola in diretta, anche questa, ma no, ma sono uno più bello dell'altro, ma io vi consiglio, il mio consiglio, che è quello che no perché, no perché gli stiamo regalando, cioè, ma veramente qua mi sembra un insistere per niente, perché qua, quello che dovreste fare è la razzia, cioè la razzia, oltretutto, come ha fatto tempo fa la famiglia Agnelli, che in anticipo si è fatta realizzare l'edizione limitata della macchina, che in anticipo ha inserito dei capolavori straordinari di quest'artista nella propria collezione privata di famiglia. Ecco, facciamo vedere anche questa, delle misure più piccole, poi stacchiamo la 8, quindi questa è la 9, se non erro, per il riferimento al pdf, dovreste fare voi oggi, perché il passato ha sufficienti interventi di collezionisti mondiali, internazionali, che hanno già creduto, investito, e complimenti a loro perché l'hanno fatto quando la proposta di mercato era inferiore a quella che vi ho letto prima in diretta, in cui da una stima che andava da 4 a 6 mila euro, il pezzo è stato aggiudicato a 8 mila più diritti d'asta, quindi oltre i 10 mila, e ora si trovano un patrimonio. Quello che sarebbe giusto fare è esattamente quello che ci è capitato con le proposte su Rick Prohl, perché oltretutto poi ci sono anche delle connessioni espressioniste che legano questa tipologia di forma e tecnica pittorica, che ci sono arrivate le proposte a livello internazionale, ok, di acquistare tutte le opere in blocco. Ma ci credo, perché gli artisti che sono esposti al MoMA, gli artisti che sono esposti alla Tate, insomma a quei centri che a livello internazionale accolgono il flusso più intenso e di spessore degli appassionati, degli acquirenti, dei collezionisti a livello mondiale, giustamente questo fanno. Cercano di acquistare in lotto la maggior parte delle opere e poi quelle vanno a finire in maniera capillare negli altri sistemi di divulgazione di mercato, questo è un po' la realtà. Ma per la seconda volta noi cosa stiamo facendo? Per voi, qui noi di Arti Network, come dicevo all'inizio, vogliamo un'altra volta credere e di riflesso di conseguenza dare la possibilità a voi, nostri clienti, quindi mettere voi in primo piano, in cosa? Nel poter acquistare queste opere di questi artisti che vi stiamo presentando ogni mercoledì sera in anticipo, rispetto, o finché siete in tempo, ecco forse questa è l'espressione più corretta, finché siete in tempo, prima che, uno, le aggiudicazioni d'asta schizzino esponenzialmente come già sta accadendo, perché si parla di percentuali di crescita elevatissime, due, che entrino a far parte di ulteriori collezionisti di fama mondiale e che quindi poi il riscatto e la crescita vada di pari passo alla motivazione numero uno, quindi due vedi uno, e tre, che possiate acquistarle finché ancora le avremo, perché se a noi arriva una proposta e ci proteggiamo, proteggiamo l'artista a favore vostro, ci arriva una volta, ci arriva due volte e continuiamo a proteggere l'artista e le vostre opere per le vostre collezioni, è solo a favore vostro, ve lo assicuro, perché quando le grandi realtà, i grandi fenomeni ed eventi a linea internazionale fanno delle proposte, fanno delle proposte consistenti, è consistente la proposta che ci è arrivata su Rick Prohl, è consistente la proposta che ci è arrivata su Esther Malango e su tanti altri artisti di cui Arte Network per prima si è affacciata con la volontà di crederci, quando ancora gli artisti non avevano l'eco della fama nel risuonare, nelle menti di tutti noi, di appassionati d'arte contemporanea, e nuovamente insiste Arte Network nel darvi la possibilità, come oggi, di acquistarli ancora, e ve lo ripeto perché forse non l'avete sentito prima, a cifre che raggiungono la soglia del 50% meno della proposta internazionale. Per questo io dico fate bene a svuotare le pareti, perché tra un po', anche se continueremo a perseverare nel voler tenere e proteggere nella nostra collezione artisti di questo calibro, in ogni caso dovremmo adattarci a quello che è il valore che emerge e che emergerà in un futuro prossimo su questi grandi artisti. Quindi, continuiamo con questa carrellata per l'ultima mezz'ora, se non erro, devo controllare di questa diretta, quindi Max, per favore, fammi una bella panoramica, fai rivedere un po' tutto e ti soffermi, sai dove? Ti soffermi sulla tre che non l'abbiamo ancora, esatto, mostrata. Fammi le vedere tutte in questa panoramica, in questa carrellata generale. E intanto, no, torniamo a... Eccoli qua, gli oggetti. Attenzione anche agli oggetti, eh! Perché vi ho detto che la forma espressiva non si limita al contorno del supporto pittorico della tela, ma si esprime nell'oggettistica, nelle lavorazioni con le perle, che vedete nel PDF che vi spedisce Stefano al centralino. E stavamo parlando di Giorgio di Langa, no? Perché era la connessione tra quello che era espresso nei suoi personaggi, chiamati Maconde, e volevo appunto che Marcello lo rimettesse un attimo in grafica prima di passare nuovamente ad Esther Malangu, perché Giorgio di Langa è conosciuto, a parte per i colori brillanti con cui esprime queste Maconde, no? Che sono i guerrieri, che sono stati importantissimi e fondamentali. Vedete come nuovamente, ecco qua, come nuovamente torna, emerge, persevera questa storia, quasi come un evento ed una connotazione fenomenica, trascendentale, insita, nel modus operandi degli artisti di origine africana, no? E erano questi Maconde, no? Erano conosciuti come dei guerrieri, che sono stati importanti nella lotta per la liberazione del Mozambico, che è stata ottenuta poi nel 74 nei confronti del Portogallo, no? E questa tribù era la tribù a cui anche lui apparteneva, e vedete che per questo bisogna distinguere in tradizione e non in arte universale, perché ognuno, in maniera imprescindibile, quasi con una espressione sanguigna, tramanda l'origine, la radice primordiale della sua provenienza. E prima vi dicevo che quando il baricentro economico è diventato l'America, quello degli anni 90, lo guardiamo subito. Eccolo qua, scusate un attimo l'interruzione, però giustamente ve lo dico sempre, in prima linea le vostre richieste, è importante scandire la trasmissione in base a voi. Quindi, concludendo dicendo che i paesi di massimo successo a livello emergente, e non solo, il Giappone, l'India, l'Europa, l'Africa, hanno veramente puntato a questa espressione, adesso mostriamo anche quello sul cavalletto, di origine, sì, sono quelli del 2001, andiamo a vederli. Quello in visione, che è l'unico che, come vedete, nella campitura centrale, a livello geometrico, semplicemente, esatto, gli unici due su tavola, oltre ad essere accomunati, che bello anche questo, oltre ad essere accomunati dall'anno, 2001, quello precedente ha la campitura centrale quadrangolare, giusto per differenziarlo a livello tecnico di forma, anche che è importante, che è occupato da questo investimento di strisce verticali policrome, che sono la vita, che sono l'energia. In questo caso, invece, abbiamo una distribuzione, come vedete, dello spazio geometrico su delle fasce orizzontali. Qua, poi, al centralino, siete voi a orientarvi, a scegliere, con Stefano, che in tempo seleziona, vi conferma le opere, ve le mette da parte, come ha già fatto, staccando le altre dal nostro set. e le abbiamo viste le proposte, ma oltretutto, ecco qua, 2001, questa, olio su tavola, e 2001, l'altro, sempre olio su tavola. I prezzi... I prezzi... I prezzi, ve li dico, sapete perché? Intanto... A parte perché... A parte che ve li dovete ricordare per quando vi verranno proposti a 10.000, perché questo è quello che purtroppo poi imporrà il sistema mercato, no? E a cui noi dovremo adeguarci, e a cui dovremo per forza adattarci. E a me dispiacerebbe, ve lo dico sinceramente, perché a me non cambia solo la soddisfazione che i nostri clienti abbiano avuto la possibilità di inserire nelle proprie collezioni, sbaragliando la concorrenza, aggiudicandosi ad una proposta che sbaraglia la concorrenza, un oggetto, una creazione, un'opera d'arte del 2001, quindi vedete che si circoscrivono come rare anche per l'anno in cui sono state realizzate, perché ci sono queste due, e il supporto. Allora, immaginatevi se l'acrilico su tela di cui abbiamo guardato prima le quotazioni, è stato battuto, aggiudicato, a più di 8.000 con poi la percentuale che abbiamo detto si arriva a più di 10.000, immaginatevi, questi due, accomunati, per la rarità dell'anno, in cui è più difficile reperire nella sua produzione, anche per noi, di cui ne sono rimasti in minoranza, in collezione, e con il supporto differente. Cioè, quindi, attenzione a queste due caratteristiche, perché 3.200 euro, ve lo dico, 3.200 euro cada uno, per ogni proposta, facciamoli rivedere, perché non vorrei mai che queste due proposte 3.200 euro, e quindi, la base, il listino internazionale di questa misura, perché vi ho detto, sono tre le misure proposte oggi, principali, prevede 6.000 erotti euro. 3.200 è la nostra proposta, per voi, per voi, per chi segue il nostro palinsesto, per chi segue le nostre trasmissioni dedicate all'arte contemporanea, per chi vanta una collezione iterogenea, che ormai si è aggiudicato durante questi anni in Arte Network, e diciamo che non so neanche ad insistere, perché meno della metà, meno della metà, è una conferma immediata, facciamoli vedere entrambi, quelli del 2001. Eravate ancora indecisi in quest'ultimo quarto d'ora su quale puntare? Benissimo, siete completamente delucidati in questo momento su due opere che non possono deludere, che non possono tramutarsi in un futuro rimpianto, perché oltre ad essere paragonabili e spettacolari quanto le altre, hanno anche questa caratteristica che le contraddistingue di benissimo. Benissimo, vedete? Così, così dovreste continuare in quest'ultimo quarto d'ora, quindi questa confermata delle due, e basta, adesso ce n'è una, ce n'è una. Questa confermata resta peccato, peccato, peccato per chi non ci sta seguendo questa sera, perché siamo noi di Arte Network a proporre questa artista meravigliosa, questa artista che oltre ad essere presente nella nostra collezione di Arte Network è presente nello scenario internazionale, questa non è più disponibile, quindi confermata, la togliamo dal set e ti ringraziamo. Resta questa. E voi dovete agire in questo ultimo quarto d'ora. L'ultima trasmissione prima di Natale e Stefano è stato buono, come si dice, no, bisogna essere buono in questo periodo, forse è stato troppo buono. Stefano, facciamo vedere l'ultima su questo supporto. e giungono le altre richieste. Vediamo subito su cosa orientarci, su cosa farvi vedere negli ultimi minuti disponibili. grande richiesta su questa, da quello che ho capito, più di una persona mi pare in due, offrite 100 euro in più, portatevele a casa, io farei così, devo un consiglio, perché 3200, 3200, poco cambia, so che l'ultima è rimasta con questo supporto, quindi ve la evidenzio con giustamente la dovuta enfasi, nel senso, a questo punto non è quel limite, quel margine a cambiare, state scegliendo l'opera giusta, state scegliendo l'opera giusta. l'altra su cavalletto, proposta in cavalletto, non è più disponibile, poi se non erro, era stata anche richiesta nuovamente la 1, nuovamente la 1, quindi Max, rispostiamoci su quella del 2005. E qua effettivamente una cosa si deve vivere, qui convive sotto tutte le filosofie espressive essere malangu, in che senso? Nel senso che prima di tutto vedete a primo impatto la differenza tra una rappresentazione figurativa che solitamente non è impressa nelle altre realizzazioni, tenderemo a far riferimento ad essere malangu o a paragonarla ad un contesto astratto, ecco, rispetto che chiaramente alla figurazione, in questo caso invece c'è la convivenza di entrambe le forme espressive, quindi la base, il substrato determinato da le due cornici che ricordano la tradizione primordiale di quella che non è solamente la tecnica che ha reso famosa a livello internazionale essere malangu ma è proprio l'eredità, l'esaltare, il celebrare un'eredità che è quella ricevuta da tradizioni, da aver tramandato di tribù in tribù per tutte le generazioni, il culto di dipingere le pareti delle abitazioni, delle case in concomitanza agli eventi più importanti a livello religioso, di espressione esistenziale, di un passaggio fondamentale nella nostra esistenza e quindi nel ritaglio nella cornice centrale, nell'ambiente centrale dell'opera si stagliano proprio le figure che raccontano e testimoniano questo, gli eventi. Quindi convivenza di geometria algebrica più esaltazione della figurazione, l'ultima e l'unica oserei dire perché torniamo a vederla Max perché questo hanno chiesto di rivederla, quindi facciamola rivedere non oso immaginare non oso immaginare dato che la consuetudine in esterma langue è aspettarsi l'assenza di figurazione non oso immaginare quanto possa arrivare a valere l'unica opera che conserva invece la totalità così la possiamo chiamare di tutte le tradizioni a cui lei ha tinto per farsi riconoscere nel mondo considerato occidentale sicuramente più delle altre per questo semplice motivo anche della strutturazione tecnica e formale se dovessero scegliere selezionare filtrare dalla nostra collezione questi enti importanti queste realtà di cui vi ho parlato che ci mandano consistenti proposte per acquistare tutto il blocco tutto il superlotto delle opere di essere malango sicuramente questa sarebbe selezionata per un percorso eventuale percorso espositivo perché completerebbe l'eventualità di ciò di cui si potrebbe ci si potrebbe aspettare la tre quella con il supporto del 2001 confermata quindi non ne abbiamo più levo anche questa terminate vabbè l'amico Davide che mi segue da quando ho cominciato perfetto grazie Davide quindi la stacchiamo la passo a bellissima questa è stupenda eh vabbè avete scelto le due nel finale così avete scelto le due importanti 3002 era quella 3002 era questa stiamo svuotando il set ah ma certo facciamo così adesso ecco il nostro Stefano tanto lo conoscete stiamo su questa grande così Stefano riesce a fare una cosa per gli ultimi minuto nove conferme nove conferme mancano pochissimi minuti ok e vediamo se riusciamo a svuotarle tutte quindi cosa facciamo le raggruppiamo sono rimasti uno due tre quattro cinque sei otto opere dovreste confermarne una al minuto come i minuti che mancano se ne mancano otto ma l'unplane ma come minimo per finire per arrivare alle feste con il giusto sei minuti vabbè più di una al minuto meglio per voi meglio per voi panoramica partiamo questo che era lotto numero uno anzi in realtà bisognerebbe partire dal vaso e dal teatrino che si contraddistinguono ancora di più poi questo che era lotto numero uno l'abbiamo appena argomentato questo che fa parte del ciclo delle facciate della casa della riproduzione della casa di Esther Malangu cioè Stefano che vi aspetta per le ultime al centralino poi fatevelo mandare lo stesso il pdf perché se lo chiamate sotto Natale continua ad essere così buono come questa sera io ne approfitterei questa è la 16 nel pdf e anche questa a me a livello cromatico ad esempio piace molto se diciamo la cromia nella versione precedente era molto vivace e sanguigna qui invece è un po' più diluita verso le tonalità pastello un po' più delicato quindi anche questo spettacolare poi abbiamo questo che andiamo a vedere subito la misura visto che ho qua tutti i fogli delle liste se non erro questo vediamo se mi sbaglio se quello era il 5, 6, 7, 8 dovrebbe essere il 9 un 60 per 90 sì ma stupendo anche questo stupendo della serie ne rimangono 3 di questa dimensione facciamo vedere mi pare sia giusto sì non ho sbagliato alle mie spalle appartiene sempre alla serie alla serie dei più importanti con la misura magistrale imponente qua vi riempite veramente una parete qua è un'opera di esposizione ambientale poi l'altra misura speculare all'esposizione nell'altra parete sempre un 60-90 sì esatto lo stesso vale per quella accanto sì e poi facciamo vedere la chiusura del cerchio visto che siamo anche in chiusura della trasmissione l'ultima delle eccole qua appartenente alla facciata decorativa della riproduzione della casa che è il simbolo da cui proprio emerge nasce piantare i radici la tradizione di essere malango quindi questa è l'ultima disposizione delle misure più importanti di cui è stata confermata la 2 quindi la 2 non c'è più comunque volevo dire che quest'anno siamo quasi giunti alla fine in realtà questo non è l'ultimo appuntamento assieme non è l'ultima nostra diretta perché mercoledì prossimo saremo nuovamente assieme adesso assieme a Stefano studieremo la personalità l'artista emergente da proporvi in questo spazio che ormai è consolidato è un appuntamento fisso del mercoledì dalle 22 mezzanotte ho sentito e sono molto importante ho notato che questione importante che l'asta di icone russa è nata molto bene che è stata mandata in onda nello streaming web del nostro sito che è www.artenetwork.it il 20 pomeriggio sono state confermate e si sono state aggiudicate più di 15 mi pare icone meravigliose quindi è un'opportunità che si ripeterà e probabilmente la 1 perfetto all'amico Andrea vedete le conferme last minute sono sempre importanti eccola qua e beh acrilico su tela 94% 43% complimenti complimenti all'ultimo all'amico Andrea non spendo ulteriori parole perché già prima ho celebrato e sottolineato l'importanza di questa di quest'opera adesso aggiungiamo i saluti allora io auguro un sereno Natale una vigilia domani ormai veramente almeno per me questa settimana è stata full piena di impegni adesso preparerò in questa settimana la diretta per mercoledì prossimo quindi ci vedremo sempre dalle 22 mezzanotte buona vigilia buon Natale buone feste state in famiglia mi raccomando non non uscite comportiamoci bene perché nuovamente se no continuiamo a rimandare il raggiungimento della nostra libertà e penso che tutti puntiamo a quell'obiettivo quindi raggiungiamolo assieme coesi ci vediamo la prossima settimana buone feste davvero seguitemi anche con i vetri la sera di Natale dalle 21 a mezzanotte sul 143 buona serata a tutti buonanotte e buone feste grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.